... Consegnata dalla Fincantieri di Ancona una nuova nave da crociera mercoledì il varo tecnico di una seconda e si parla di un'altra commessa Le giornate faidi, primavera anche domani i beni culturali aperti ad Ascoli Piceno possono essere visitati il convento e la chiesa della Santissima Annunziata Ambiente e sanità questi temi al centro dell'Assemblea regionale del Movimento 5 Stelle che si è tenuta oggi a Fosso Ombrone Calcio Serie B L'Ascoli conquista un punto importante pareggiando a Vercelli dopo appena tre minuti di gioco il gol dei bianconeri che finiscono la partita in dieci e poi Lega Pro la maceratese viene bloccata in casa dalla Pistoiese non va oltre l'1-1 resta immutata la distanza di tre punti dal secondo posto del Pisa e buonasera ben trovati al telegiornale regionale della RAI dunque in apertura buone notizie per lo stabilimento Fincantieri di Ancona che dopo tanta incertezza sta vivendo un bel periodo dal punto di vista produttivo nel pomeriggio la consegna di una nuova nave mercoledì il varo tecnico di una seconda e in cantiere ci sarebbe anche una nuova commessa i dettagli con Francesca Piatanesi prenderà il largo e lascerà Ancona giovedì la nave da crociera Viking Sea costruita nello stabilimento dorico di Fincantieri nel pomeriggio con una grande festa è stata consegnata all'armatore con tre mesi di anticipo pronta per solcare i mari del nord il giorno prima mercoledì 23 ci sarà il varo tecnico di un'altra Viking la Sky che dovrebbe essere spostata in banchina il 31 marzo quando sarà completato l'allestimento commesse che per il cantiere dorico per tanto tempo rimasto in preda all'incertezza lavorativa hanno significato la piena occupazione per i dipendenti 530 tra impiegati e operai con oltre 2200 ingressi giornalieri da parte degli appalti entro la metà di aprile inoltre comincerà a prendere forma anche una terza nave da crociera commissionata dalla compagnia norvegese Viking che assicurerà il lavoro fino al 2017 non solo perché a quanto pare lo stabilimento dorico di Fincantieri potrebbe essere impegnato anche in una nuova commessa un ulteriore colosso del mare di 46.000 tonnellate gemello delle altre imbarcazioni prospettive che lasciano ben sperare e cui i lavoratori sperano di affiancare anche altre soddisfazioni i primi di aprile ripartiranno le contrattazioni per i contratti integrativi mentre le RSU della FIOM attendono di essere convocate da prefetto e comune per discutere le questioni relative all'utilizzo degli appalti e come annunciato tornano le giornate FAI di primavera oggi e domani siti di pregio aperti sono 81 in tutte le marche tra questi ad Ascoli Piceno la chiesa e il convento della Santissima Annunziata a Colle dell'Annunziata vediamo è un'occasione per poter ammirare luoghi di solito chiusi al pubblico quella offerta dalle giornate FAI di primavera giunte quest'anno alla 24esima edizione all'evento partecipa anche il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno che ad Ascoli Piceno rende disponibili la chiesa e il convento della Santissima Annunziata un complesso altamente suggestivo che è stato al centro lo scorso settembre di un accordo di valorizzazione siglato dalla delegazione FAI di Ascoli e dalla prefettura e questo per poter aprire al pubblico su richiesta ogni domenica mattina la chiesa della Santissima Annunziata che viene illustrata da volontari e giovani guide fino a pochi anni fa il complesso veniva usato come sartoria e recentemente durante lo sgombero di materiale edile nella cappella del Santissimo Crocifisso sono state trovate anche storiche macchine singer con le quali le orfanelle venivano avviate al mestiere di sarta ora si attende una nuova illuminazione che consentirà ai visitatori di poter ammirare lo splendido soffitto affrescato da Tommaso Nardini non appena saranno terminati i lavori la delegazione FAI di Ascoli si farà poi carico del riposizionamento di tre pale e due statue che urnavano gli altari barocchi della chiesa e che ora sono nei depositi della Pinacoteca Civica e ora la politica che ci porta a Fossombrone dove si è svolta l'Assemblea regionale del Movimento 5 Stelle ci riferisce Roberta Balzotti si è parlato soprattutto di ambiente e sanità all'Assemblea regionale mensile del Movimento 5 Stelle che in questa occasione si è svolta a Fossombrone l'Assemblea che è stata preceduta nella mattinata da due tavoli tematici dei quali i rispettivi coordinatori hanno riferito i partecipanti tra i temi trattati dal tavolo sul lavoro e ambiente coordinato dal consigliere regionale per Giorgio Fabri c'è stato quello dei rifiuti sarà chiesto ai comuni di fare pressione sui gestori soprattutto nella provincia di Pesaro e Urbino per la raccolta differenziata porta a porta la questione acqua è stata invece affrontata con particolare riferimento alla realizzazione di due pozzi profondi a San Lazaro e Sant'Anna sui quali il Movimento 5 Stelle è contrario le risorse vanno spese prioritariamente per riparare le tubazioni degli acquedotti abbiamo da gestire oltre 5.500 km in provincia come Marche Multiservizi e perdiamo dal 30 al 40% di acqua dai dati che abbiamo per cui prima riusciamo a recuperare queste percentuali di risorsa di acqua riparando gli acquedotti e poi con studi approfonditi che attualmente mancano riusciremo a capire esattamente quali sono le quantità di acqua profonda che riusciamo ad incrementare per inserire negli acquedotti Il gruppo di lavoro sulla sanità coordinato dalla consigliera regionale Romina Pergolesi si è concentrato sugli ospedali di secondo livello la sanità territoriale distrettuale gli ambiti territoriali sociali e soprattutto sulla rete ospedaliera Abbiamo già pensato di ritornare alla vecchia legge regionale 2696 che era quella che in qualche modo tutelava maggiormente sia le necessità dei pazienti che l'organizzazione efficiente del servizio sanitario da lì partiremo poi con altri modelli vedi quello Umbro vedi quello Toscano per cercare di fare la nostra proposta di legge La polizia di Fano ha denunciato un negoziante 59enne per vendita di bevande alcoliche a minori di 16 anni all'inizio di marzo una ragazza di 14 anni era stata ricoverata in coma etilico al pronto soccorso dell'ospedale dopo aver trascorso la serata con tre coetane gli agenti avevano scoperto che la giovane in compagnia appunto delle sue amiche aveva comprato la vodka in un negozio della zona successivamente la ragazza aveva consumato il super alcolico mischiandolo con una bevanda energetica subito dopo aveva iniziato a sentirsi male ed era caduta a terra svenuta restando priva di conoscenza per quattro ore i poliziotti sono riusciti a risalire al negozio dove era acquistata la vodka denunciando il titolare e presidio in piazza a Pesaro delle associazioni animaliste e ambientaliste per difendere il centro recupero animali selvatici il CRAS di Cagirone ci riferisce Pierpaolo Rivale dietro le maschere 13 associazioni che vogliono dare voce agli animali selvatici una storia di burocrazia e competenze sta mettendo in scacco il CRAS del territorio pesarese e il suo personale il centro recupero animali selvatici è attivo dal 2009 e marcia al ritmo di circa 1000 salvataggi all'anno ma da qualche tempo è finito nella zona grisa del passaggio dalla provincia alla regione si va avanti con proroghe provvisorie e stanziamenti di corto respiro in attesa di una soluzione vera è un anno che scongiuriamo questa chiusura grazie all'unione di tutte le associazioni animaliste e ambientaliste però le lungaggini burocratiche il delicato passaggio provincia-regione ha fatto ritardare una decisione che noi invece ora attendiamo definitiva è importante anche perché è l'unico centro di questo tipo in regione è l'unico centro qualificato è l'unico centro che ha esperienza e quindi da qui potremo partire per poi allargare una rete di contatti in tutta la regione non è un problema solo delle marche l'ultimo caso in Toscana dove un veterinario pisano che ha soccorso la volpe ferita non solo non ha potuto consegnare l'animale al servizio pubblico ma rischia anche una multa nei prossimi giorni si tornerà a discutere del cras pesarese si spera nell'assegnazione della struttura alla regione e ad una scappatoia per il personale che non fa capo a un ente pubblico gli amici degli animali restano in ogni caso pronti alla lotta in pista fino a quasi 40 anni è il futuro che attende Valentino Rossi che oggi ha ufficializzato quanto già era nell'aria il nove volte ridato correrà con la Yamaha fino alla fine della stagione 2018 l'accordo è stato confermato oggi in Qatar a poche ore dalle qualifiche della prima prova del moto mondiale di MotoGP sono molto soddisfatto di questa decisione commenta il campione pesarese è sempre stato nei miei piani scusate continuare a correre finché resterò competitivo e finché mi divertirò e ora siamo al calcio con i risultati delle partite della 32esima giornata di Serie B la undicesima di ritorno pareggio dell'Ascoli che a Vercelli realizza 1 a 1 contro la squadra di casa ecco gli altri risultati Entella Spezia giocata ieri 2 a 2 Lanciano-Cesena 2 a 0 Latina-Brescia 2 a 2 Modena-Como 1 a 2 Novara-Bari 1 a 2 Perugia-Salernitana 1 a 1 Trapani-Livorno 1 a 0 Vicenza-Cagliari 0 a 2 in classifica in testa il Cagliari a 65 punti tallonato dal Crotone a 63 ma il Crotone ha una partita in meno poi Novara 52 Spezia 51 e via via le altre L'Ascoli è in zona salvezza in sest'ultima posizione con 36 punti ma ora andiamo proprio a Vercelli per vedere con Eleonora Fioretti come è andato appunto l'incontro con L'Ascoli Si è conclusa con un pareggio la partita tra L'Ascoli e la Pro Vercelli entrambi in cerca di punti per la salvezza dopo appena un minuto dal fischio d'inizio Caccia entra nell'area avversaria e cade per fallo di Budel l'arbitro decreta il rigore ed è lo stesso Caccia a trasformare e L'Ascoli passa in vantaggio 20 minuti dopo è la Pro Vercelli con Marchi che entra in area che viene strattonato da Canini è rigore calcia lo stesso Marchi ed è 1 a 1 dopo il pareggio la Pro Vercelli domina la partita ci prova ancora e arrivano altre occasioni per la squadra di casa e allo scadere del primo tempo i piemontesi reclamano per un rigore non concesso a inizio secondo tempo L'Ascoli riesce a proporsi meglio e si rende più pericoloso con Petagna ma solo fino al 27esimo quando restano in dieci per l'espulsione di Benedicic per somma di ammunizioni nel finale L'Ascoli torna a soffrire ma riesce a portare a casa un pareggio importante grazie al quale sale a quota 36 punti lasciando invariata la distanza dalla zona play-out sabato prossimo il Picchio torna a giocare in casa al Del Duca stavolta con il Vicenza e ora passiamo alla Lega Pro Girone B che oggi pomeriggio ha visto il pareggio 1 a 1 della Maceratese in casa contro la Pistoiese l'Ancona giocherà tra poco alle 20 e 30 fuori casa contro il Sant'Arcangelo tra gli altri risultati odierni Aquila-Pisa è finita 0 a 0 in classifica domina la Spala 55 punti ma con una partita in meno seguita da Pisa e dalla Maceratese rispettivamente a 52 a 49 punti l'Ancona con il match di questa sera da giocare è in quarta posizione a 43 punti dietro di lei la Carraresi a 39 con una partita in meno che giocherà domani contro la capolista Spala e ora andiamo proprio a Macerata per la cronaca della partita di questo pomeriggio e c'è per noi Giuseppe Buscemi parte bene la Maceratese che nei primi minuti sembra mantenere premesse e promesse della vigilia quanto a prosiegue e prospettive verso lo scorcio finale di campionato e infatti al quarto minuto Cristian Bonaiuto solo è indisturbato da centrocampo spara dal limite dell'area pistoiese e trafigge i annarilli poi però la rata si sdraia sul vantaggio e non coglie varie occasioni per chiudere una partita che avrebbe potuto fare sua con comodo ci si limita a gestire in qualche modo il vantaggio nel secondo tempo i toscani alzano la testa e al tredicesimo vanno a un pelo dal pareggio con Anastasi che colpisce il legno di Francesco Forte tanto che poco dopo al diciassettesimo Forte respinge sulle prime San Martino ma Anastasi mette dentro con un tapine imparabile per l'estremo bianco-rosso pareggio dei toscani è pure meritato non solo ma poco dopo Proia coglie palo interno che fortunatamente va fuori poco o anzi nient'altro da dire per il resto e l'allenatore bianco-rosso in seconda alla fine si consola così un po' sottotono da parte nostra però calcio anche questo sappiamo siamo rammaricati soprattutto perché magari c'era la possibilità con questa partita di fare lo step successivo più severa la presidente Tardella di prestazioni abbastanza sconcertanti né belle né brutte ma sconcertanti nel senso che oggi ho visto tantissime palle lunghe tanta confusione poca concretezza adesso un flash di tennis il quarto finale il quarto di finale della Coppa Davis tra Italia e Argentina in programma tra il 15 e il 17 luglio si giocherà al circolo tennis Baratov di Pesaro lo annuncia il sindaco Matteo Ricci che aggiunge per noi è un grande orgoglio e cambiamo argomento sul conero oltre 20 piste abusive scoperte negli ultimi mesi per praticare la disciplina ciclistica del cosiddetto downhill 5 persone sono state sanzionate solo nella mattinata di oggi dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Polizia Provinciale di Ancona ma altrettanti ciclisti sono stati sorpresi nei giorni scorsi tale pratica danneggia ricorda il Corpo Forestale dello Stato la vegetazione con tagli indiscriminati e nel parco peraltro sono presenti 10 sentieri regolari e oggi il nostro TG itinerante ha fatto tappa a Monte Prandone provincia di Ascoli Piceno quasi 13.000 abitanti in collina il Borgo Antico dove è in atto il progetto dell'albergo diffuso ce ne parla Barbara Marini la salaria è la direttrice intorno al tracciato più moderno dell'antica consolare romana si sviluppa Cento Buchi la frazione dove si concentrano gli abitanti di Monte Prandone sempre cresciuti a due cifre negli ultimi anni risalendo le colline per qualche chilometro il panorama si apre al mare ai Sibillini al Gran Sasso ed ecco il Borgo Antico l'impianto è medievale ma nel corso dei secoli tanti sono stati rifacimenti come è accaduto per la chiesa della collegiata di San Nicolò di Bari ricostruita nell'Ottocento interno neoclassico a una sola navata San Leonardo è quel che rimane dell'antico monastero benedettino costruito tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo all'esterno c'è ancora la struttura gotica originaria tra queste vie sono stati recuperati i palazzi antichi per farne strutture ricettive che hanno tutto il sapore dell'essere accolti a casa l'obiettivo è l'albergo diffuso reception unica e sistemazioni sparse per il paese qui secondo la tradizione nacque San Giacomo della Marca prima giurista poi frate Francescano consigliere di papi e re di ad estatuti civili a molte città morì a Napoli dove le sue spoglie sono rimaste fino al 2001 quando sono state traslate nel santuario a lui dedicato a Monteprandone il convento e la chiesa di Santa Maria delle Grazie sono su questo colle dal 1449 tanti rimaneggiamenti anche se il chiostro ha conservato la struttura cinquecentesca guardate questa madonna di terracotta realizzata nel 400 il cardinale Francesco della Rovare la donò a San Giacomo nel museo civico dei codici del santo ci sono 60 volumi che arrivano dalla sua libreria gli oggetti personali li troverete nel museo all'interno del convento francescano gli indumenti gli abiti come potete vedere che sono appartenuti al santo ecco è una stoffa molto semplice non colorata perché come diceva San Francesco ecco i frati dovevano avere degli abiti molto poveri e semplici invece il colore all'epoca costava San Giacomo ha avuto una vita avventurosa è stato anche inquisitore contro gli eretici e si racconta nella sua storia nella tradizione che è il calice usato dai fraticelli di Maio Lato una setta eretica per attentare la sua vita lui si salvò lui si salvò miracolosamente c'è ancora tempo per qualche notizia la polizia di Urbino ha arrestato un 21enne residente a Sant'Angelo in Vado l'accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale gli agenti mentre perlustravano a piedi il centro storico hanno notato il giovane che dopo aver parlato con tre persone estreva dal suo zaino un piccolo involucro hanno deciso allora di intervenire tentando di bloccare il 21enne che però ha reagito divincolandosi e poco dopo è stato bloccato e torniamo a parlare di sanità dopo l'inaugurazione ve lo abbiamo raccontato ieri dei lavori di ristrutturazione e innovazione dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno questo pomeriggio è stata la volta dell'ospedale di San Benedetto del Tronto dove sono stati inaugurati il punto nascita completamente rinnovato è la cosiddetta Stroke Unit quest'ultima è l'unità operativa di neurologia una struttura di terapia semi-intensiva in cui un team di neurologi si occupa della diagnosi e del trattamento dei pazienti con ictus acuto coordinando un pool di infermieri dedicati sono le 19.54 minuti 20 secondi in questo momento noi ci avviamo a conclusione dunque adesso vi proponiamo il riepilogo con le notizie principali di questa edizione in apertura fin cantieri di Ancona una nuova nave consegnata una nuova nave da crociera invece mercoledì il varo tecnico di una seconda e si parla di un'ulteriore commessa imminente le giornate del FAI di primavera anche domani i beni culturali aperti ad Ascoli Piceno possono essere visitati il convento e la chiesa della Santissima Annunziata ambiente e sanità questi temi al centro dell'assemblea regionale del Movimento 5 Stelle di cui vi abbiamo riferito a Fosso Ombrone e poi lo sport calcio serie B l'Ascoli conquista un punto importante pareggiando a Vercelli dopo appena tre minuti di gioco il gol dei bianconeri che finiscono la partita in 10 e ancora calcio Lega Pro la maceratese viene bloccata in casa dalla Pistoiese non va oltre l'1-1 resta immutata la distanza di tre punti dal secondo posto del Pisa ed è tutto per il momento l'informazione regionale torna pochi minuti dopo la mezzanotte grazie a voi tutti per averci seguito e un buon proseguimento di serata grazie a voi grazie a voi